La moglie di Aton, Nefertiti. Allora conteneva un potere reale, o era solo simbolico. Stanno portando avanti i discendenti di Ramsete. E la cerimonia? Non era dedicata alla Dea della Verità, ma a un altro dio. Le due piume di Amon. Il rituale rigenera Mahat in tutt'uno sotto il cielo. In onore del Signore di Tebe e la Sposa Divina al suo fianco, i sacerdoti hanno la reliquia. Mi ha ingannato sin dal principio!